mary wilkins freeman il lotto vuoto quando a thompson center si venne a sapere che i thompson stavano per trasferirsi in città l'agitazione e lo sgomento furono grandi perché il trasferimento dei thompson equivaleva quasi a un sacrilegio gli antenati dei thompson avevano fondato il paese un centinaio d'anni prima il primo thompson era stato proprietario di una locanda lungo la strada che dava ricetto a uomini e animali e si chiamava all'insegna del leopardo l'insegna su cui il leopardo era dipinto in un vivace blu esisteva ancora ed era ben visibile poiché era inchiodata sulla porta d'entrata dell'attuale casa dei thompson questo thompson di nome david era proprietario dell'emporio del paese la taverna non esisteva più da quando ai tempi di suo padre avevano fatto passare la ferrovia attraverso thompson center di conseguenza la famiglia privata della propria attività dall'avanzata del progresso aveva aperto un emporio che era la cosa che più si avvicinava a una locanda di campagna la differenza principale consisteva nel fatto che tutti gli ospiti erano di passaggio e non richiedevano mai camere da letto dato che trovavano da riposarsi sui barili di zucchero e farina e sulle casse di stocafisso e si ristoravano mangiucchiando la mercanzia in vendita con la conseguente proficua diminuzione delle scorte di uva passa zollette di zucchero biscotti secchi e formaggio il trasloco dei thompson dalla casa dei loro antenati fu dovuto sia a un'improvvisa ricchezza derivata dalla morte di un parente che al desiderio di mrs thompson di offrire delle migliori opportunità al sedicenne figlio george nel campo dell'istruzione nonché a quello di offrire delle migliori opportunità matrimoniali alla figlia adrianna che a quel tempo aveva solo 19 anni ad ogni modo di quest'ultimo incentivo a lasciare thompson center non se ne parlò mai esplicitamente ma fu solo maliziosamente ipotizzato dai vicini sarah thompson pensava che a thompson center non ci sia nessuno degno di sposare la sua adrianna e perciò la vuole portare a boston per vedere se riesce a trovare qualcuno lì dicevano poi si domandavano che cosa avrebbe fatto abel lions da anni corteggiava discretamente adrianna e la madre di lei non aveva approvato e adrianna che era obbediente lo aveva respinto delicatamente anche se con una certa tristezza era l'unico innamorato che avesse mai avuto per cui si era sentita dolorata e grata era una ragazza bruttina e goffa e ne era cosciente sua madre era ambiziosa più del padre che era soddisfatto di quello che aveva e non era disposto a cambiare facilmente ad ogni modo cedette alle insistenze della moglie e ha consentì a vendere la bottega ad acquistare una casa a boston e a trasferirvi sì david thompson stranamente era diverso dai suoi antenati aveva progredito o regredito a seconda di come si vedeva la cosa il suo carattere era certamente migliore ma lui non possedeva lo spirito impetuoso e la capacità nell'afferrare le buone occasioni che avevano distinto ai suoi progenitori in verità i vecchi thompson sebbene fossero importanti e rispettati in quanto ricchi e autorevoli non godevano di una reputazione al di sopra di ogni sospetto di madre in figlio si tramandava in paese più di un'oscura leggenda che li riguardava e soprattutto a proposito del primo thompson quello che aveva costruito la locanda all'insegna del leopardo blu il suo ritratto un orribile tentativo artistico dell'epoca era ora appeso nella soffitta della casa di david thompson si narravano molte storie a proposito di grandi spacconate se non peggio avvenute in quella vecchia locanda sulla strada di grosse scommesse di risse da ubriachi e di denaro ottenuto in maniera disonesta il tutto messo a tacere con prepotenza dagli arroganti thompson che terrorizzavano tutti david thompson invece non terrorizzava nessuno aveva ricavato modesti guadagni dall'emporio con metodi onesti scambiava merci genuine a peso giusto con prodotti locali e denaro locale era moderato e degno di fiducia dotato di grande amor proprio e di un deciso talento nell'amministrare il denaro fu principalmente per questo motivo che provò piacere per quella improvvisa ricchezza dovuta a un lascito testamentario ebbe infatti maggiori opportunità di esercitare la propria innata sagaccia negli affari e lo dimostrò nell'acquisto della casa a boston un giorno di primavera la vecchia casa dei thompson fu sprengata il leopardo blu fu tolto con attenzione dalla sua posizione sulla porta d'ingresso i beni di famiglia furono caricati sul treno e i thompson partirono fu un giorno triste e significativo per thompson center un uomo di bar aveva affittato l'emporio david alla fine aveva deciso di non vendere e i suoi vecchi amici si adunarono tristemente e discussero la situazione cominciarono a manifestare un enorme orgoglio per il loro concittadino che era partito si vantarono di lui e lo sventolarono come una bandiera davanti agli occhi del nuovo bottegaio david è furbissimo dissero nessuno sarebbe mai riuscito a spuntarla con lui in paese se avesse vissuto tutta la vita a thompson center agli occhi bene aperti sapete quanto ha pagato la casa di boston ebbene signor mio la casa vale venticinque mila dollari e david l'ha comprata per cinque sì signore è proprio così deve essersi qualcosa che non va in quella casa aveva osservato il nuovo bottegaio nascondendosi dietro al bancone cominciava ad avvertire le difficoltà della situazione non c'è niente che non vada david se ne è assicurato è impossibile imbrogliarlo è tutto perfetto acqua calda e fredda e tutto il resto e si trova in uno dei posti migliori della città una strada proprio centrale david ha detto che gli affitti in quella strada non scendono mai al di sotto dei mille dollari sì signore david ha fatto proprio un buon affare cinquemila dollari per una casa che ne vale almeno venticinquemila deve essersi qualcosa che non va aveva brontorato ancora il nuovo bottegaio da dietro il bancone ad ogni modo come affermavano i suoi amici e concittadini non sembravano esserci dubbi sulle ottime condizioni della casa di città che david hamsend aveva acquistato e sul fatto che l'avesse avuta per un prezzo incredibilmente basso sulle prime tutta la famiglia si era insospettita certo che la casa che solo poche settimane prima era costata quella somma esigua era in condizioni perfette e non c'era niente di difettoso nell'impianto idraulico o nella caldaia non c'era nemmeno una fabbrica di sapone nelle vicinanze come Mrs. Thompson aveva vagamente ipotizzato aveva sentito di case rese indesiderabili da ragioni simili ma non c'era nessuna fabbrica di sapone tutta la famiglia annusò e sbirciò quando cadde la prima pioggia guardarono il soffitto aspettandosi di vedere delle macchie scure laddove si fossero aperte delle piccole crepe ma non ce n'erano furono costretti ad ammettere che i loro sospetti erano stati del tutto fugati e che la casa era perfetta anche se permaneva il mistero di quel prezzo più basso del suo reale valore questo ad ogni modo aggiungeva un ulteriore pregio alla casa secondo l'opinione dei Thompson che avevano la parsimonia caratteristica del New England vivevano da appena un mese nella nuova casa ed erano felici sebbene a volte si sentissero soli e avvertissero la mancanza della comunità di Thompson Center quando cominciarono i guai i Thompson's sebbene abitassero in una bella casa in una zona distinta quasi elegante della città erano fedeli alle loro tradizioni e tenevano così come erano stati abituati una sola domestica era la figlia di mezza età di un contadino che viveva alla periferia del loro paese natio e viveva con loro da dieci anni un tranquillo lunedì mattina la donna si alzò di buon'ora e fece il bucato prima della colazione che era stata preparata da Mrs Thompson e Adrianna come era loro abitudine nei giorni di bucato la famiglia era seduta alla tavola parecchiata per la colazione nella camera da pranzo a pian terreno mentre la domestica che si chiamava Cordelia stendeva i panni nell'otto vuoto lì vicino quell'otto vuoto sembrava di grande valore visto che era d'angolo ed era alquanto singolare che non vi avessero costruito i Thompson si erano detti che avrebbero preferito che la loro casa sorgesse lì ad ogni modo lo utilizzarono il più possibile con quel disprezzo innocente e tipico della gente di campagna per i diritti di proprietà relativi ai terreni privi di proprietario potremmo benissimo stendere il nostro bucato in quell'otto vuoto aveva detto Mrs Thompson a Cordelia il primo lunedì del loro soggiorno in quella casa il nostro cortiletto non basta nemmeno per la metà dei nostri panni e lì per giunta c'è più sole perciò Cordelia vi aveva steso il bucato per quattro lunedì e quello era il quinto avevano quasi finito di fare colazione erano arrivati alle focacce di grano saraceno quando la domestica entrò di corsa nella camera da pranzo e si fermò a fissarli senza parlare con un'espressione di orrore assoluto era mortalmente pallida le mani bagnate fradice di acqua assaponata le penzolavano tremanti lungo i fianchi tra le pieghe della gonna di cotonina i suoi capelli che erano chiari e radi erano ritti per la paura tutti i Thompson si girarono a guardarla David e George si alzarono con la vaga idea che ci fossero dei ladri in casa Cordelia Battle che cosa c'è gridò Mrs. Thompson Adrianna boccheggiò e impallidì quanto alla domestica che cosa c'è ripeté Mrs. Thompson ma la cameliera non riusciva a parlare Mrs. Thompson che sapeva mostrarsi autoritaria si alzò di scatto corse verso la donna spaventata e la scosse con violenza Cordelia Battle devi parlare disse e non stare lì a fissarci in quel modo come se fosse diventata muta che cosa ti è successo allora Cordelia parlò con voce flebile c'è qualcun altro che stende i panni nell'otto vuoto ansimò e si aggrappò a una sedia per sostenersi chi gridò Mrs. Thompson indignandosi perché riteneva di aver ormai assunto i diritti di proprietà su quell'otto vuoto sono quelli della casa vicina vorrei sapere che diritto hanno noi siamo più vicini all'otto vuoto di loro io non so chi sia ansimò Cordelia beh la ragazza della casa vicina l'abbiamo vista andare a messa ogni mattina disse Mrs. Thompson ha una testa rossa e fiammeggiante ormai dovresti riconoscerla Cordelia non è quella ragazza rispose con voce fievole Cordelia poi aggiunse in tono spaventato non sono riuscita a vedere chi fosse la guardarono tutti perché non sei riuscita a vedere domandò la sua padrona sei forse diventata cieca no signora allora perché non hai visto ho visto solo a quel punto Cordelia esitò con un'espressione di orrore assoluto va avanti disse Mrs. Thompson con impazienza ho visto solo l'ombra di qualcuno molto magro che stendeva i panni e che cosa ho visto l'ombra dei panni che ondeggiava sul filo non hai visto i panni solo la loro ombra a terra che tipo di abiti erano strani rispose Cordelia con un brivido se non ti conoscessi così bene penserei che tu abbia bevuto disse Mrs. Thompson adesso Cordelia andrò io stessa nel lotto vuoto io non vengo sussurrò la donna dopodiché Mrs. Thompson e tutti gli altri tranne Adrianna che restò con la domestica tremante si diressero verso il lotto vuoto uscirono dal cancello che dava sulla strada per arrivare sul posto non c'era niente di insolito appariva come tutti i lotti vuoti un grande pioppo residuo dell'antica foresta che una volta si era levata lì brillava in un angolo per il resto tutto era coperto da erbacce e da qualche fiore polveroso i Thompson entrarono e si fermarono accanto alla rozza palizzata che divideva il lotto dalla strada e restarono mutoliti dalla meraviglia e dall'orrore perché Cordelia aveva detto la verità tutti videro quello che la donna aveva descritto ossia l'ombra di una donna eccezionalmente magra che si muoveva con le braccia tese e le ombre di indumenti strani e indefinibili che sventolavano appesi all'ombra di un filo ma quando alzarono gli occhi in cerca dei corpi solidi che avrebbero dovuto creare quelle ombre non videro niente all'infuori dell'aria limpida e azzurrina di ottobre dio mio sussurrò mrs. Stonsend il suo volto assunse a una strana espressione di ira mista a terrore a un tratto si mosse in avanti sebbene il marito si sforzasse di trattenerla lasciatemi stare disse lei avanzò poi fece un balzo all'indietro e strillò un lenzuolo bagnato mi ha colpito in faccia portatemi via portatemi via poi venne la riportarono a casa in braccio è stato orribile gemette quando rinvenne distesa sul pavimento della camera da pranzo con tutta la famiglia intorno oh david che cos'è secondo te assolutamente niente replicò david thompson coraggiosamente lui si distingueva per il coraggio e la fede incrollabile nei fatti reali negava anche a se stesso di aver visto qualcosa di insolito ma qualcosa c'era si lamentò la moglie anch'io ho visto qualcosa conferma george con una voce bassa e scontrosa da ragazzo la cameriera si inghiozzò convulsamente come pure adrianna per simpatia non ne parliamo più disse david ecco jean bevi questo tè caldo ti farà bene e tu cordelia d'ora in poi stenderai i panni nel nostro cortile george va a sistemare il filo il filo è lì fuori disse george stringendosi nelle spalle hai paura no ripicò il ragazzo offeso e uscì pallido in volto in seguito cordelia stese il bucato dei thompson nel cortile della loro casa volgendo sempre le spalle all'otto vuoto quanto a david thompson trascorreva buona parte del proprio tempo nell'otto vuoto a guardare le ombre ma non arrivò a nessuna spiegazione sebbene si sforzasse di trovarne alcune soddisfacenti credo che le ombre provengano dal fumo del nostro camino oppure dal pioppo disse perché le ombre compaiono solo il lunedì mattina e mai in nessun altro momento richiese la moglie david restò in silenzio ben presto si manifestarono altri eventi misteriosi un giorno cordelia suonò la campana del pranzo alla solita ora la stessa di thompson center ossia mezzogiorno in punto e la famiglia si riunì adrianna guardò stupita i piatti che erano a tavola che strano disse che cos'è strano le chiese la madre cordelia si immobilizzò mentre sistemava un bicchiere d'acqua accanto a un piatto e l'acqua traboccò beh disse adrianna con il volto che impallidiva io pensavo che ci fosse del minestrone a pranzo ho sentito odore di cavolo sapevo che sarebbe successo qualcos'altro disse con voce tremante cordelia appoggiandosi allo schienale della sedia di adrianna che cosa vuoi dire le chiese missis thompson in tono aspro ma il suo volto cominciò ad assumere quel pallore terrorizzato che il volto di tutti loro assumeva molto facilmente in quel periodo alla minima impressione di qualcosa fuori dal comune per tutta la mattina ho sentito nella mia camera odore di cavolo lesso disse con voce flebile adrianna e invece per pranzo abbiamo merluzzo e patate i thompson si guardarono l'un l'altro david si alzò con un'esclamazione e corse fuori della stanza gli altri restarono in tremante attesa quando tornò aveva sul viso un'espressione avvilita che cosa chiese missis thompson esitante si sente odore di cavolo lì fuori ammise riluttante poi la guardò con aria di sfida viene dalla casa vicina disse è il vento che lo spinge verso di noi la nostra casa è più alta non importa è impossibile spiegare fenomeni simili cordelia disse missis thompson vai dai vicini a chiedere se hanno cavolo a pranzo cordelia si precipitò fuori dalla stanza con le labbra serrate tornò subito dicono che non cucinano mai i cavoli annunciò con cupa soddisfazione e con uno sguardo conclusivo rivolto a missis thompson la loro cameriera è stata molto insolente oh papà andiamocene vendiamo la casa gridò adrianna presa dal panico se pensi che io venda una casa che ho pagato così poco solo perché sentiamo odore di cavolo in un lotto vuoto ti stai sbagliando replicò con fermezza non è solo il cavolo disse mrs thompson e qualche ombra aggiunse david sono stanco di queste assurdità pensavo che avessi più buon senso jane uno dei miei compagni di scuola mi ha chiesto se viviamo nella casa vicina al lotto di wall street e ha fischiato quando ho risposto di sì osservò george lasciali fischiare disse mr thompson dopo qualche ora la famiglia stimolata dalla calma e dal buon senso di mr thompson convenne che era abbastanza stupido farsi impressionare da un misterioso odore di cavolo risero perfino di se stessi quelle ombre che stendevano i panni ci hanno tanto innervositi che facciamo caso a ogni piccola cosa ammise mrs thompson un giorno scoprirai che non c'è niente da guardare a parte i cavoli le disse il marito però non riesci a spiegare quel lenzuolo bagnato che mi ha colpito la faccia disse dubbiosa mrs thompson lo hai immaginato l'ho sentito quel pomeriggio nella casa fu tutto normale fino alle quattro adrianna era andata in centro a fare delle spese mrs thompson cuciva nel vano della finestra nella sua camera che affacciava sulla strada al secondo piano georgio non era tornato a casa mrs thompson scriveva una lettera nella biblioteca e cordelia era occupata a pian terreno l'imbrunire che ogni sera calava sempre più presto cominciava ad addensarsi quando all'improvviso si sentì un forte schianto che scosse la casa fin nelle fondamenta perfino i piatti nella credenza tintinnarono e i bicchiari risuonarono come campane i quadri che erano appesi nella camera di mrs thompson si staccarono dalla parete ma non fu tutto tutti gli specchi della casa si incrinarono contemporaneamente per quanto i thompson fossero in grado di giudicare poi caddero a terra in frantumi mrs thompson era troppo spaventata per urlare si rannicchiò nella sedia senza fiato con gli occhi che roteavano da una parte all'altra per l'incredulità e il terrore rivolti verso la strada vide un folto gruppo di persone vestite di nero che la attraversava all'altezza dell'otto vuoto c'era qualcosa di inesprimibilmente strano e cupo in quel gruppo in movimento drappi da lutto ondeggiavano e si raccoglievano in pieghe e volti mortalmente pallidi baluginavano la donna girò la testa per guardare e li vide scomparire nell'otto vuoto mister thompson irruppe nella stanza era pallido e ad un tratto assunse un'espressione adirata e allarmata sei caduta chiese illogicamente come se sua moglie che era snella avesse potuto produrre un simile effetto con una caduta oh david che cos'è stato sussurrò mrs thompson che sia dannato se lo so disse david non bestemmiare è terribile oh guarda lo specchio david lo vedo anche quello che è appeso sulla mensola del camino è rotto è un segno di morte e sentirono i passi di cordelia che barcollava sulle scale per poco non cadde nell'entrare nella stanza vacillò su mr thompson e lo afferrò per un braccio l'uomo le lanciò un'occhiata di traverso per metà infuriato e per metà impietosito beh che cos'è successo chiese non lo so che cos'è stato lo specchio in cucina si è rotto è a terra in frantumi che cos'è stato non ne so più di te non sono stato io la rottura di uno specchio per annuncia la morte di qualcuno nella casa disse cordelia se si tratta di me spero di essere pronta ma preferisco morire piuttosto che avere tanta paura mr thompson si liberò della stretta di cordelia e guardò le due donne tremanti con decisione crescente adesso statemi bene a sentire tutte e due disse è un'assurdità morirete sicuramente di paura se continuate su questa strada io stesso sono stato uno stupido a spaventarmi tanto è stato un terremoto oh david insimò la moglie non molto rassicurata è stato solo un terremoto insiste mr thompson agisce proprio in questo modo gli oggetti si staccano dalle pareti e si rompono e al centro della stanza non succede niente l'ho letto da qualche parte allora come spieghi quella cosa gridò se è stato un terremoto era sull'orlo di una crisi isterica il marito la tenne saldamente per un braccio mentre i suoi occhi seguivano la direzione del dito puntato anche cordelia guardò gli occhi che le si accesero di paura sul pavimento di fronte allo specchio rotto c'era una lunga striscia nera deve essere qualcosa che ti è caduta dalle mani quasi gridò mr thompson no mr thompson lasciò il braccio della moglie e fece un passo verso l'oggetto era un lungo velo di crespo lo sollevò e il velo gli volò via dalle mani come se fosse saturo di elettricità è tuo chiese alla moglie oh david non ne ho mai avuto uno non sai oh non sai che lo avrei solo se tu fossi morto com'è arrivato qui che sia dannato se lo so disse david guardandolo era mortalmente pallido ma provava più rabbia che paura non lo prendere lascialo vorrei sapere che cosa diavolo significa tutto questo disse david il nervosito lanciò il velo che cadde a terra esattamente nella stessa posizione di prima cordelia cominciò a singhiozzare mrs thompson si allungò afferrò una mano del marito e la strinse forte con dita fredde come il ghiaccio che cosa sta succedendo in questa casa si lamentò mr thompson devi venderla oh david non possiamo vivere qui per quanto riguarda la vendita di questa casa io l'ho pagata solo 5.000 dollari quando ne vale 25.000 e non la venderò mai per un'assurdità simile david fece un passo verso il velo nero ma questo si sollevò da terra e si mosse attraverso la stanza alla stessa altezza che avrebbe avuto se fosse stato appeso alla testa di una donna l'uomo lo seguì per tutta la stanza nel vano tentativo di afferrarlo poi inciampò con un'esclamazione e il velo ricadde a terra in un lungo mucchio quindi si sentirono dei passi frettolosi sulle scale e adrianna irruppe nella stanza corse dritta verso il padre e gli afferrò un braccio poi cercò di parlare ma borbottò solo delle parole inintellegibili il suo colorito era bluastro e padre la scosse con violenza adrianna cerca di dare un senso a quello che dici gridò oh david come puoi parlare in questo modo si inghozzò la madre non ne posso fare a meno sto diventando pazzo disse con enfasi che cosa succede in questa casa e a tutti voi cosa è stato adrianna povera bambina le chiese la madre guarda che cosa è successo qui è stato un terremoto disse il padre con ostinazione niente di cui aver paura come spieghi quello disse mrs thompson con una voce orribile indicando il velo adrianna non guardò era troppo concentrata sui propri terrori cominciò a parlare con voce flebile io stavo camminando accanto all'otto vuoto murmurò ansimando e avevo il cappello nuovo in una busta di carta e un pacchetto con un po' di nastro azzurro poi ho visto una folla un'orribile folla di persone dal volto bianco come se erano tutti vestiti di nero dove sono adesso non lo so adrianna crollò su una sedia ansimando va a prendere un po'd'acqua david singozzò la madre david corse fuori dalla stanza con un'esclamazione d'impazienza e tornò con un bicchiere d'acqua che portò alle labbra della figlia ecco bevi questo le disse brusco poi si sentirono dei passi pesanti sulle scale ed entrò George era pallidissimo ma rivolse loro un sorriso con un'espressione non curante salve disse con un tremito nella voce che cercò di controllare e adesso che cosa diamine succede nell'otto vuoto perché che cosa succede domandò suo padre oh niente solo beh si sono delle luci sospese al di sopra del terreno all'incirca dove ci sarebbero le finestre se lì ci fosse una casa sembra proprio di poterci entrare ma se si guarda da vicino ci sono sempre le solite vecchie erbacce secche guardavo e non riuscivo a credere ai miei occhi ho visto anche una donna camminava accanto all'otto vuoto proprio come me ha lanciato un'occhiata poi ha strillato ed è corsa via ho aspettato che arrivasse qualcun altro ma non è arrivato nessuno mister Thompson corse fuori dalla stanza immagino che sarà tutto scomparso quando arriverà cominciò a dire George poi si guardò intorno che cosa è successo qui gridò oh George all'improvviso la casa ha tremato e tutti gli specchi si sono rotti disse sua madre piangendo e adrianna e cordelia si unirono ai lamenti George fischiò con le labbra pallide poi entra mister Thompson beh chiese George avete visto qualcosa non ne voglio parlare disse il padre ho sopportato abbastanza dobbiamo vendere la casa e tornare a Thompson's Center gridò la moglie con una voce disperata oh david di che torneremo io non voglio tornare a Thompson's Center per un'assurdità simile né vendere una casa che vale venticinquemila dollari per cinquemila disse lui con fermezza ma proprio quella notte la sua decisione fu messa a dura prova tutta la famiglia vegliò nella camera da pranzo avevano paura di andare a letto vale a dire tutti tranne forse mister Thompson mrs Thompson dichiarò fermamente che per quanto la riguardava avrebbe lasciato quella orribile casa e sarebbe tornata a Thompson's Center che il marito la seguisse oppure no a meno che quella notte non fossero rimasti insieme a vegliare e mister Thompson ci dette scelsero la camera da pranzo perché era la più vicina alla strada nel caso fossero dovuti uscire in tutta fretta e presero posizione intorno al tavolo da pranzo sul quale Cordelia aveva servito la cena sembra proprio che stiamo vegliando un morto disse in un sussurro inorridito tieni la lingua a freno se non riesci a parlare in maniera sensata brontolò mister Thompson la camera da pranzo era molto grande rivestita di pannelli di quercia fino a metà altezza al di sopra del rivestimento in legno c'era un parato azzurro scuro la vecchia insegna della taverna del leopardo blu era appesa al di sopra della mensola del camino mister Thompson aveva insistito per appenderla lì era stranamente orgoglioso la famiglia vegliò fin dopo la mezzanotte e non successe nulla di insolito a mrs Thompson cominciò a ciondolare il capo mentre mister Thompson leggeva con ostentazione il giornale Adrianna e Cordelia facevano vagare gli occhi per la stanza poi si guardavano l'un l'altra per confrontare i rispettivi terrori George teneva in mano un libro a cui lanciava di tanto in tanto delle occhiate furtive all'improvviso Adrianna lanciò un'esclamazione di sorpresa e Cordelia le fece ecco george schiò piano mrs Thompson si svegliò di sopra assalto e il giornale del marito cadde frusciando a terra guardate esclamò Adrianna l'insegna del leopardo blu brillava al di sopra della mensola come se fosse illuminata da una lanterna la luce partiva da un punto sopra all'insegna e diventò sempre più intensa mentre la guardavano il leopardo blu sembra acquattarsi e animarsi poi si aprì la porta d'ingresso quella porta esterna che era stata chiusa con grande cura cigolava e tutti la riconobbero restarono a guardare Mr. Thompson era agghiacciato come gli altri sentirono la porta esterna richiudersi poi quella della camera da pranzo si spalancò e quell'orribile gruppo di persone vestite di nero che avevano visto nel pomeriggio entrò lentamente i Thompson di comune accordo si alzarono quindi si radunarono e guardarono il gruppo di persone dai volti cerri e riducenti con le vesti nere ondeggianti e fruscianti attraversò la stanza erano poco più alti della media o almeno così sembrava agli occhi terrorizzati di chi li vedeva raggiunsero la mensola del camino al di sopra della quale era appesa l'insegna poi un braccio ammantato di nero si alzò e fece un movimento come se maneggiasse un battente quindi tutto il gruppo scomparve alla vista come se avesse attraversato la parete e la stanza tornò come prima mrs thompson era scossa da un tremito nervoso e adrianna era sul punto di svenire cordelli era in preda a una crisi isterica david thompson restò a fissare con uno strano sguardo l'insegna del leopardo blu george guardava il padre con un'espressione inorridita c'era qualcosa nel volto del genitore che gli fece dimenticare tutto il resto infine gli sfiorò timidamente un braccio padre sussurrò david si girò a guardarlo con un'espressione di rabbia e di furia poi il volto gli si rischiarò si passò una mano sulla fronte buon dio cosa mi è successo mormorò somigliavi a quell'orribile ritratto del vecchio tom thompson che stava nella soffitta della casa di thompson center disse con voce rotta dal pianto il ragazzo rabbrividendo e lo credo che sembrava un vecchiaccio dopo aver visto una cosa simile gemette david ma era pallido prepara un po' di tè per tua madre ordinò quindi bruscamente poi scosse con violenza cordelia smettila di comportarti così le gridò in un orecchio e la scosse di nuovo non devi aver paura non hai fatto niente di male non è vero allora cordelia citò la bibbia tra scoppi di risate e di pianto sono stato foggiato nell'iniquità e nel peccato mia madre mi ha concepito gridò la donna se io non ho commesso il male forse lo hanno commesso quelli prima di me e quando il maligno e i poteri delle tenebre si diffondono sono debole sono debole poi scoppiò in una lunga e stridula risata se non chiudi la bocca le disse david ancora pallido per il terrore e l'orrore ti legherò in quell'otto vuoto parlo su serio allora cordelia tacque dopo averlo guardato con le pupille dilatate dal terrore il colorito stava tornando sulle guance di adrianna mentre la madre beveva il tè caldo a davidi sorsi è passata la mezzanotte ansimo e non credo che per stanotte torneranno che cosa ne pensi david no non torneranno disse david in tono conclusivo oh david non dobbiamo passare un'altra notte in questa orribile casa no domani ce ne torniamo con armi e bagagli a thompson center anche se ci vorranno i pompieri per farsi traslocare disse david adrianna sorrise pur in preda al terrore pensava ad abel lyons il giorno successivo mister thompson si recò dall'agente immobiliare che gli aveva venduto la casa è inutile disse non ce la faccio vendete la casa per quanto potete ottenere preferisco cederla piuttosto che tenerla poi aggiunse qualche espressione forte a proposito di coloro che gli avevano venduto una casa di quel genere ma l'agente protestò la sua innocenza devo ammettere che sospettai che qualcosa non andasse quando il proprietario che mi pregò di mantenere segreto il suo nome mi disse di vendere quella casa per quanto potevo ottenere e non mi pose alcun limite non ne avevo mai sentito parlare ma cominciai a sospettare che qualcosa non andasse poi feci qualche indagine e scoprì che nel vicinato si mormorava di strane cose che avvenivano nell'otto vuoto io stesso mi ero chiesto perché non vi avessero costruito si raccontava che una volta fosse stato comprato e steso il contratto ma che il compratore fosse morto poi lo comprò un altro e quando uno degli operai rimase ucciso mentre scavava in cantina gli altri smisero di lavorare non prestai molta attenzione a quelle voci ad ogni modo non ho mai creduto a simili storie e nemmeno allora vi prestai fede scoprì che sulla casa non era mai stato detto niente di male tranne il fatto che le persone che vi abitavano vedevano e udivano delle strane cose nell'otto vuoto perciò pensai che voi avreste potuto farcela anche perché non sembravate un codardo che la casa era il miglior affare che avessi mai trattato ma quanto mi avete raccontato è incredibile conoscete il nome dei vecchi proprietari dell'otto vuoto chiese mister Thompson non ne sono sicuro rispose la gente che i primi proprietari sono vissuti molto prima di voi e di me ma so che quel posto è chiamato il lotto del vecchio Gaston che cosa c'è vi sentite male no non è niente replicò mister Thompson cercate di ottenere il più possibile dalla casa forse un'altra famiglia sarà meno turbata di noi spero che non vogliate lasciare la città disse la gente educatamente tornerò a Thompson Center il più velocemente possibile dopo aver imballato tutto e lasciato quella maledetta casa replicò mister Thompson non disse né alla gente né a nessuno della sua famiglia perché si era spaventato tanto nel sentire il nome dei precedenti proprietari dell'otto aveva ricordato all'improvviso la storia di uno spaventoso omicidio che era avvenuto tanto tempo prima al Leopardo Blu il nome della vittima era Gaston e l'assassino non era mai stato scoperto un altro